Galateo del Fiore, capitolo 3, la rosa blu. La rosa blu non si trova in natura. La prima iniziativa nella ricerca della rosa blu venne eseguita nel 1990 da parte dell'azienda australiana Florigene. Si possono acquistare solo recise in negozio. Non sono altro che rose bianche immerse in una soluzione di colorante blu. Elegante e perfetta da offrire ad una persona che riteniamo molto raffinata e non scontata. Ma la rosa blu è anche simbolo di mistero e può indicare una personalità introversa ma tenace. Secondo alcune leggende, questo fiore simboleggia spiritualità, saggezza e intelligenza. E' la scelta ideale da regalare un amore quando sta nascendo, dato che la rosa blu simboleggia il colpo di fulmine, oppure ad un amore impossibile o difficile. Vanno sempre regalate in numero dispari, tranne che nelle occasioni di compleanno o anniversario. Lascia un like a questo video e ricordati di condividerlo alla persona che ami. Ciao!